segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te professoressa lei può parlare liberamente sciolta da vincoli istituzionali in questo momento si è una libera cittadina se mi fa una domanda cui non posso rispondere glielo dirò ma non credo no perché mi veniva in mente che il presidente il capo del governo israeliano netanyahu ha cercato spero in vano perché io sono molto vicino a israele però le dico la verità quello che fa e questo governo lo disapprovo totalmente compresa la condotta della guerra ma questo è un altro discorso e non ha importanza netanyahu cercava di alterare a vantaggio del governo quello che oggi è un equilibrio che fa della corte chiamiamola corte suprema o costituzionale è l'organo di equilibrio ora la mia idea e per questo le ho fatto la domanda prima la mia idea è che nella riforma del premierato così come è stata preparata c'è un po lo stesso lo stesso la stessa trappola cioè si tenderebbe ad alterare gli equilibri che ci sono pesi e contrapesi tra presidenza della ripubblica presidenza del consiglio e parlamento a favore del presidente del consiglio lei con i rischi connessi lei d'accordo allora nella riforma del premierato non si tocca la corte costituzionale italiana e questo secondo me è una cosa molto importante perché quello che per la israele è la corte suprema quella stessa funzione da noi è svolta dalla corte costituzionale e non c'è traccia di una modifica in questo senso lo sottolineo ed è importante dirlo perché in molti paesi invece sta accadendo che proprio le corti costituzionali non è solo israele siano catturate dalla politica un esempio beh l'ungheria e la polonia sono stati dei dei momenti molto i primi in europa si è contenuta in questo momento c'è stato il cambio di governo in polonia però drammatico drammatico di governo che adesso sta ovviamente creando delle nuove tensioni delle nuove necessità di assestamento però è una tendenza che sia un po diffusa o diminuendo le competenze delle corti oppure alterandone la composizione in modo da diminuire l'imparzialità questo dibattito in italia non c'è ed è bene che non ci sia perché la nostra corte costituzionale sta svolgendo una funzione molto importante ed è molto un'istituzione molto rispettata quello che lei diceva invece sul premierato un'alterazione dei poteri certo quando si tocca la forma di governo si dà maggiore potere a una delle istituzioni inevitabilmente se ne sacrificano altre io l'ho detto anche pubblicamente in parlamento in un'audizione parlamentare a me pare che uno dei punti in cui si sacrifica un aspetto molto buono del nostro assetto costituzionale è il ruolo del presidente della repubblica esattamente nel senso nel senso che il presidente della repubblica da noi è un arbitro imparziale non entra nel gioco politico ma svolge due funzioni fondamentali che permettono di garantire la correttezza del gioco politico proprio come un arbitro deve fare i due poteri fondamentali sono la formazione del governo quindi l'incarico inevitabilmente la nomina dei ministri l'incarico la nomina del primo ministro la nomina dei ministri e poi in caso di crisi la valutazione se formare un nuovo governo oppure sciogliere le camere tutto questo verrebbe modificato nei disegni di riforma costituzionale attalmente all'esame del parlamento togliendo irrigidendo diciamo così le ipotesi e le modalità di azione del presidente della repubblica a mio parere questo è un peccato perché avere una istituzione arbitrale che stempera i conflitti tra maggioranza e opposizione credo che sia particolarmente utile specialmente in un contesto come il nostro il nostro non solo di italiano ma un po' di tutte le democrazie occidentali dove la polarizzazione tende a diventare un fattore che fa deperire la qualità del dialogo democratico è divisiva spesso violenta spesso arbitraria insomma ha ragione questo si vede questo è sotto i nostri occhi tutti i giorni attraverso le cronache di quanto accade lei una volta quindi